In queste settimane si sono svolti alcuni incontri che hanno coinvolto amministrazione comunale, commercianti e turismo perclusione. Qual è l'obiettivo di questi incontri e quali i risultati ottenuti? Allora sì, le riunioni sono state tre, ci sono state comunque parecchie adesioni anche se sappiamo che poi non è semplice partecipare a tra l'altro un numero così elevato di riunioni in breve tempo, però abbiamo intercettato più di 100 commercianti, pubblici esercizi, gestori di attività ricettive e da qui è uscito comunque la positività dell'idea di andare a fare del 2013 in occasione al centenario turismo percluso in un anno particolare. In sintesi è la richiesta di cambiare, anche se già si sta facendo parecchio, di cambiare il modo di vedere la prospettiva e di partire con questa occasione del centenario facendo squadra. Perciò ci saranno una richiesta di preadesione che verrà distribuita in questi giorni per quanto riguarda tutte le attività commerciali, pubblici esercizi e attività ricettive che poi si vuole espandere anche alle altre attività che sono gli artigiani, anche alle attività industriali e soprattutto anche ai cittadini e ai turisti. Sono tesseramenti che richiedono un impegno economico diversificato ovviamente in base a determinate logiche che abbiamo poi costruito in queste riunioni. Il risultato di queste preadesioni, io mi aspetto sia il massimo, abbia la massima espressione di positività e io sono sicuro che sarà così perché tutti assieme facendo squadra pensiamo di riuscire con questo progetto di rilanciare appunto innanzitutto lo spirito di squadra che è necessario nei momenti di difficoltà, ma soprattutto rilanciare anche per gli anni futuri un modo di lavorare in sintonia e in squadra. Perciò è il mio più che altro un appello a sostenere questo progetto, saranno coinvolti anche i commercianti, saranno coinvolti tutti quelli che vogliono partecipare per quanto riguarda poi la definizione degli eventi, delle manifestazioni che si andranno a costruire che vanno appunto a soddisfare le esigenze che poi ovviamente sono differenziate anche a livello di centro, a livello di periferia. Cioè ecco, le lettere partono in questi giorni, io spero che il risultato sia, anzi sono sicuro, sarà più che soddisfacente.